Silvano Bortolazzi, 37 anni, diplomato in ragioneria, l'unico Ligure ad essere stata ammessa a partecipare al premio Via Reggio nella sezione Poesia. Per questo motivo Bortolazzi, originario e residente a Recco, ha ricevuto anche i complimenti del presidente della regione Liguria, Claudio Burlando. Il premio Via Reggio rappresenta infatti un grande traguardo nel mondo della poesia e della letteratura. Bortolazzi vi partecipa con la sua raccolta di poesie dal titolo Blu Italiano.